Carissimi e carissimi, è qui con noi e non ci sembra vero, direttamente dalla luna il sindaco di Cape Canaveral, che nel momento in cui stava tagliando il nastro per la partenza dello shuttle Columbia è rimasto impegnato nel reatore numero 3 e ora si trova a orbitare attorno alla luna. Ecco il suo messaggio a noi terrestri in particolar modo. a Paolone Super Hero, Italian Super Hero e The Joker! è una cosa pazzesca qua è bellissimo e c'è una luna fantastica non vedo altro c'è solo la luna ma è una cosa spettacolare io vi auguro che possiate immaginarvi quale fantasia potreste avere solo per immaginarvi la meravigliosa quantità di energia che sto ricevendo in questo momento. da uno spettacolo interstellare con una luna rossa vedo la luna non vedo altro posso solo vedere la luna non posso più tornare indietro ma è un'esperienza fantastica potete in qualche modo collegarvi anche voi Paolone! carissimi carissimi avete sentito il collegamento in diretta urbi e orbi col sindaco di Cape Canaveral che sta orbitando intorno alla luna. disc joker operativo nella discoteca interstellare ecco ci giunge notizia si Houston si si Houston pronto Houston benissimo delta bravo Charlie 2 Charlie 2 si Houston si ci dicono che che da Houston si la moglie del sindaco prego si Houston si pronto Houston si Houston si prego collegati con Houston prego Houston si prego ah ci dicono che la moglie del sindaco se ne è andata in motel con l'assessore alla cultura ve ne comunichiamo questo al oh ma tu sai che fin ha fatto mia moglie pronto Houston si si Houston siamo di nuovo collegati col sindaco c'è giunta notizia che è felicissimo della situazione mi ha ringraziato grazie sindaco sei collegato anche con Houston si pronto allora si Houston prego benissimo allora sindaco ti comunico che Houston mi pagherà il viaggio per andare a Houston e starò io vicino vicinissimo a tua moglie visto che sono il tuo più grande amico stai tranquillo starò giorno e notte assieme a lei finchè tu non tornerai sarà un'esperienza meravigliosa perché questa solidarietà tra sindaco e super eroe è bellissima di Stoker alla console Paolo ragazzi mille sei un amico un amico vero quando torno ma quando cazzo quando dai qua comunque se torno ti ringrazio di persona e voglio bene nano nano la tua mano nano nano apri piano nano nano di Stoker alla sole di scoprire di Stoker alla sole Grazie a tutti